Si parla di riqualificazione del territorio, in questo caso si parla del mercato vecchio, una zona che davvero è in degrado con situazioni di criticità e abbiamo investito 180 mila euro per fare un nuovo parcheggio, ma sarebbe riduttivo dire questo perché abbiamo fatto un'area di decoro perché ci sono passaggi pedonali in pietra, un altro marciapiede in più collegato allo stesso progetto che prevede il tratto di marciapiede appunto tra la chiesa dello Spirito Santo e via Guelfa per dare maggior sicurezza ai pedoni, nuovi disegni dei stalli e quindi dei parcheggi con evidentemente 30 posti auto in più tra la zona interessata dal cantiere e il vecchio parcheggio, quindi siamo davvero soddisfatti, massimo decoro, abbiamo anche più verde rispetto a prima, un vero giardino davanti a Porta Bifara che così chi arriva a Cortona potrà assaporare diciamo così il decoro di una città che merita questo.